Ebbene amici fratelli della Congrega, abbiamo iniziato con un'inquadratura allusiva, io non voglio alludere, non alluderò a niente in questo video, è tornato in auge Vittorio Sgarbi che sicuramente conoscerà allo stretto di Messina e chi vivifica, che scrittura aulica, ecco lui sicuramente sarà a conoscenza di questo libro, una delle mie tante variazioni tematiche, rielaborazioni di Angela Hart, Ascensore per l'inferno di Alan Parker, Anche il diavolo è un giocattolaio, poi ci sono dei riferimenti in altre mie opere, io statuario opere scultore e delle sculture, questa è una grande pittura, Franz von Stucke, il peccato, che peccato essere fraintesi nella vita, citando e parafrasando De Niro Lewis Seifer, a seconda dell'oppiaggio, detective, io il commissario Falò, è spiacevole scoprire la verità troppo tardi, quindi ai ritardati, arretrati, non aggiornati dei mieters consiglio caldamente le mie opere e consiglio di rivedere le loro posizioni, perché le imposizioni volessi imporre e voler reprimere l'altro e adeguarlo, appiattirlo, soggiogarlo, schiavizzarlo alle direttive di natura solipsistica di una vita che non combacerà mai con la loro, scatena un jacus, poi c'è qualcuno, uno psichiatra che indaga la Jean Dujardin e scopre uno scandalo di proporzioni ciclopiche, ma se ne discuterà in tribunale, cosa voglio dire, cosa voglio alludere, niente, niente, che le suggestioni, le repressioni, i ricatti, non funzionano come, perché io sono un uomo culturista, acculturato uomo, sì, che lesse già a dieci anni questo libro di Scott, sembra la locandina The Last Duel, no, quello è Ridley Scott, Eivano, 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 non avete visto quella serie televisiva, chi c'è, ma, Loretta, 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 il cuore spezzato di De Niro, di Cape Firno, era quella lì, Loretta Goggi, maledetta primavera, che frettacere, Eivano, di Walter, Walter e Scott, siete rimasti scottati, freddati, non ve l'aspettavate, vi aspettavate, come direbbe il mio hater, con la sua madre, povera sciancata, disgraziata, wey, fa l'ottichino, capito, come si sta il mondo, no, 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 siete a sapere che ci fu un complotto, è uscita la mia recensione di JFK, sì, volevano durmi al suicidio, o addirittura internarmi per via di creazioni scriteriate, se non mi fossi, diciamo, adeguato, se una persona, parliamo in astratto, non si fosse ma adeguata, ai dettami della società, non si può sfuggire dal proprio responsabilità per avere un lavoro di merda, e essere insoddisfatti per tutta la vita, capisco, io sono un tipo un po' Lawson Welles, mi piace scherzare, e questi scherzi cattivi poi rischiarono, rischiano di scatenare, ma non voglio scatenare, ecco, di retropensiero, in menti piccole, rabbie inusitate, poi si potrebbero enunciare, esplicitare in questi commenti che sono stati segnalati, questi vili personaggi che si credono virili, vogliono normalizzarti, sì, sì, dica voi sbirulino, no, dicevo, mi sto perdendo, ma ho bisogno di un punto di riferimento, di qualcuno che possa istruirmi, diciamo, sì, di una famiglia adottiva di Minus Abentes, che possa, diciamo, così, circoscrivermi, ecco, intro, una diagnosi, o forse una visione della vita, bisogna tramitete, perché, sì, 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 ma trovo una vita tua, se non fai un po' pena, questa è la mia vita, un po', sì, con le gambe cavallate, io realizzo video, bollero dissuadermi, mi stavo, ecco, io stesso, per persuadendo, dico, qui voglio imitare Carmelo Bene, ma perché, cos'è, senti, sbirulisci, imitation game, perché imiti gli altri, invece ti sento, infatti, quando uno è se stesso, non viene accettato, ma, sì, 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 mi ricordo, mi ricordo, stavo qua, sdraiato, studiato, fui un grande adoratore, non so, di Shannon Tweed, grandi cosci, quella, sì, ma dovevo guardare i Simpson, ma, i Simpson, semmai le parodie proprio di Cap Fear, ora, sì, lo so, uno come me può esporsi, diciamo, a pregiudizi, a etichette, diciamo, emanate, essere incorniciato da questi che hanno un'etica e una visione della vita, ripeto, molto circoscritta a prospettive figlie di una limitatezza, di una retaltezza, di sì, sì, è una presa per il culo, la mia è abbastanza plateale, no? Sì, io soffro della sindrome di Asperger, della schizofrenia, della fobia sociale, di disturbo di personalità e, soprattutto, di una grave malattia di cui, fortunatamente o sfortunatamente, molti non sono affetti, c'è l'intelligenza. Sì, la sindrome di Asperger, adesso De Niro ha completato le riprese, è uscita anche l'immagine, la prima immagine ufficiale, con Bob Cannavale, quello di D'Archman, quello di D'Archman, il neppropriet behavior sulla sindrome di Asperger, poi sono anche Edward Norton, il chirichetto di scheggia di paura, Primer Fear di Gregory Hoblet, poi sono quello di Motherless Brooklyn. Sì, secondo la visione di questi burattinai e grandi bugiardi che volevano irregimentarmi o addirittura castrarmi, mi spiace deluderli. Gli uccelli, dico, devono volare alti mentre le persone basse devono, giustamente, essere punite e, diciamo, indagate, perquisite e poi dovranno costituirsi se non vogliono, ecco, finire male. Il Made of the West, avevo citato questo film, questo libro concepito, tra l'altro è uscito l'audiolibro della mia leggenda di King Kong. Sì, dovete sapere che mi devo prodigare in questo tipo di mondo da persona giudiziosa, coscienziosa, deve avere contezza, diciamo, di quelli che sono i suoi limiti, per limitarsi a una visione ristretta alla schiavitù e alla prostrazione verso un lavoretto e alla prostituzione di massa. Dicevo, in questo libro ho scritto prima ancora che si compissero, diciamo, allora devi stare seduto, composto. Allora, di tutto punto e di tutto mio pugno, lo dicevo, dobbiamo essere compunti. Nacque il 13 settembre del 69, no, del 79, ne ora degli ardo ma non canuto, un riferimento al nome della Rosa, di Umberto Eco, non ancora decaduto, bensirinato, rifiorito, rinforzato, rinvigorito mi in modo fulminio, sì, vi ho fulminato, e date a me del fulminato, sulla mia vita, veglio da uomo sveglio, rifletto e indago in merito al mio passato, addormentato, penso al presente e già nel futuro inoltratosi, fucosamente, o floridamente, ragiono al di fuori di ogni religione, no, a ritroso, no, sulle mie ritrosie. Voi, invece, siete ritrosi, a dire la verità. In veritas vi dico che sono il falato dell'eternica, no, a riguardo della mutevole percezione dello sguardo che cangia, è cangevole, e sulla venustà intramontabile di quella nuova. Allora, il tempo ci cambia, esiste furende a ferirci abbrassivamente con potenza tremenda, al che oggi, in date 18 maggio 2022, nel di stesso, in cui si è dato, anzi, preferisco in tal caso utilizzare il tempo passato remoto, in quanto tale coniugazione appena espressa vi, e io cosa sono? Un fancazzista wannabe. Wannabe love e be love. Mi piace anche buon Marley. Cosa? Ho un idole femminile. E allora cantiamo? No woman no cray. E io sono un copione. Coniglione? Coglione? Eh. Sì, ma, te, 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 te. Beh, mica sono un liceale del cazzo come te. Un ex liceale. Che petteva le papardelle, le papardelle al sugo sono buone. In quanto tale coniugazione appena espressa vi profuma di maggiore storicità. Ed epica legendarietà oramai scritta alla troia di tua madre, no, alla storia, anche del cinema, si diede via il nuovo festival Kahn. Eh sì, è lì. Tu eri un uomo vero lì, in quei tempi liceali, adolescenziali? Fumavi le canne? Eh, ma tutte le bevevi tutte? Eh, ma sei bravo eh. Giunta oramai la sua nuova erezione, no, settantaquattresima edizione, scusate, però c'è questo cappello, cappello che non mi convince. Questo è, come dico, il meridione a Napoli, il Ciro Pazzo. Ciro, con due R. Poi c'è, Ciro, Ciro! Eh sì, ma me l'ho preso per un tipo ingenuo quella lì, che ha recitato anche con Pellì. Dice, mentre stasera sulla montata de Marche, Tom Cruise e Company presentaranno contatto di Pompeii. Noi, Papa Magno, una deprima mondiale, già ho sonato alla critica americana di Top Gun Maverick. Ma guarda quello lì, oh. Ma ce l'ha le pala a gonadico? Tu entrerai presto in uno stato patagonico, sei? Sei un bel topolino? Eh? Parli solo di top? Io? Che cosa? Paperino? Sperolino? Uè? Ma vai, ec, assieme a tuo padre, fallita, panso balanzò. Allora, dice, arriviamo al punto della questione. Punto a capo. Un libro, diciamo, comunque scritto, con una punteggia tua, sta ordinieri. Ecco. Allora, Deadline e Varite. Si, cerca sempre di variare. Com'è il tempo? Sereno, variabile. Ci fu comunicato che il mio attore preferito da sempre, vale a dire Monsieur, io sono Monsieur Verdoux. Quello che è? Quello è Charlie, Charlie Chaplin. E ora, come dicono in meridione, Monsieur Dedoux. Cioè, significa quello. Robert De Niro gira presto due pellicole, ma auguro di notevole rilevanza, vero? We were soldiers. Soldiers. No, quasi non è solda. Comunque, un bel film, quello di Mark Gibson. Non è di Mark Gibson. No, no. È di chi è produttore, sceneggiatore del bravato, Randy Wallace. Team Soldier, che sarà diretto dal regista Brad Furman. Sì, non fate furbe, eh? Perché io sono come Matthew McConaughey, non The True Detective, stavolta bensì di The Lincoln Lawyer di Brad Furman. E ne è proprio a Beaver, che invece porterà la firma di Tony Goldwyn. Ora, Tony Goldwyn ha recitato, qui viene riportato, nel film Traccia di Rosso. Lì c'è Loren Brock. Ah, ma stavo qua sul divano. È una controfigura, quella. Ma io mica c'è una sega su quella. Ma avevo 13-14 anni, bella figa quella. Straordinario, veramente. Mi rapeva tanto. Scusate. Come Gloria Guida, come, insomma, che poi la mia guida è stata eccezionale. Fin dal principio, dopo due o tre volte che guidavo la macchina. Prima volta mi hanno boccato. Qui sono andato bene. Come Gloria Guida. Qua viene citato. Gloria nell'alto dei cieli, ma non c'è pace qua giù. Sei un diavolo in me, c'è un diavolo in me. E quelli che ce l'hanno contro lo zucchero. No, basta. Le amarezza, le amarezza, le amarezza, la bellezza che va e viene. Sei perché uno, diciamo, non può basare tutto il suo sesso, il suo successo, diciamo, sull'aspetto esteriore, ci vuole quell'aspetto esteriore, no? Ecco, diceva. Quindi ho questo hater, poveraccio. Adesso dovrà pagare pure il risarcimento questo. E purtroppo la chepa non ci è arrivata. Quindi qui si parla di crimini, di cose delituose. Eh, sì, sì. Eh, ma quello lì frequenta la crema della crema. Ma sai capito? Non ho molto cremoso. E queste persone che facevano le scrimatur, ma dicevo. Eh, sì, sì. Eh, poveraccio. Poveraccio. Anche per cui non ci stai. Ci sono dei complotti, Seven, l'invidia. Eh, l'invidia ci sono. Purtroppo ci sono. Poi ci sono gli ostracismi che subiscono persone che mi chiamano in spese, accusate. E questi handicappati, purtroppo, mi ha detto la verità. Mi spiace. Mi spiace per loro. Loro appartengono al motto un po', diciamo, eh, che anche quello. Io ho recitato con lui, no. Adrieno Celenteno. Più forte ci la fai. Quindi stessero muti, Ornella. Lo diceva. Che vi posso dire? Sono un po'. Toc, toc, toc. Adesso dobbiamo toccare perché, eh, eh. Eh. Devono sbrogliare la matassa. Questo è come la sfangata. Diceva, eh, Adrieno Celenteno. Chi non lavora, non fa l'amore. Oh, ma guarda che la pagnotta. Te la devi guadagnare. Ecco, sono così. Come questi qua. Poi, uè, 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 uè. Fuolgo lì. Puoi permetterti di avere la dignità di andare a mignottere. Allora avete andato a comprare davvero da puttana, eh. Volete dire la verità a questa gente? Ditela. Se io parlo da solo, essere o non essere, questo è il problema. che fra l'altro per Gibson è stato un buon omelette. Cioè, sì. Nel film di Zafrella. Mi piaciuto molto quel film. Mi piace. Molto, molto. Io sono il genius. Mi piace così. Come tutto questo qui. Miss. Mia cara Miss. Eh sì. Sì. A tutti i miei haters. Sì. Lì gliel'ho messo. Andassero a messo. Perché sono ipocrite. Fare sei. Sì. Cagnolini. Zitti. Mi spiace. E ci dispiace per gli altri se sono triste. Se sono triste. E non vedo che cos'è l'amore. Quindi? Abbaiano. Devono sputare il rospo. Vabbè. 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 insomma un'ingulata non si riprenderanno più questi qua adesso ci vuole un trattamento sanitario obbligatorio e forza forza che ce l'ha fatta siete nati un po' mi spiace può succedere avete incontrato me?